Salve, a questa edizione del Maker Faire 2018, noi presentiamo Mio Bio, l'elettrodomestico per la coltivazione biologica in casa. Un elettrodomestico totalmente testato, secondo le norme di sicurezza EN e CE, e pronto per la vendita. Con Mio Bio porti in casa la natura, la freschezza e porti in casa la possibilità di coltivare in ogni giorno dell'anno tutto ciò che la tua fantasia vuole. Ogni cassetto è estraibile e quindi è possibile poter coltivare piante fino ad 1,60 m. L'oggetto non si basa su una tecnologia idroponica, ma utilizza il metodo tradizionale di terra e di acqua. L'oggetto Mio Bio riesce a irrigare, illuminare e ventilare in modo totalmente autonomo. Ogni ripiano di coltivazione è totalmente indipendente nei parametri suddetti e quindi è possibile settare dei parametri diversi per la crescita peculiare di ogni tipo di pianta. Con Mio Bio si riscopre il mondo vero della natura, la bellezza di poter essere in contatto con l'agricoltura giorno per giorno in casa. Con Mio Bio si riscopre l'emozione di piantare un seme e di vedere con entusiasmo le prime foglie che generano la vita per essere sani e naturali in ogni giorno dell'anno.